Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A1, dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Aglio e Badia in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna è avvenuto un incidente tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Sassomarconi e Valmontone, tra il bivio con la variante di Valico e Aglio, in A11 e in FIPILI lungo tutto il percorso e in A12 tra Pisa Centro e Rosignano. Sulla FIPILI si è verificato un incidente tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Sulla stessa tratta, prestare attenzione a un veicolo fermo o in avaria tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Attenzione ai pedoni segnalati sulla strada tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!